Ciao a tutti, oggi vediamo dei bellissimi orologi fatti a mano su legno d'ulivo. Si tratta di tronchi tagliati a fette, fatti stagionare, a cui è rimasta la corteccia. Qui vediamo come il legno si è già decorato così, lasciato al naturale con la corteccia. Questo in particolare ha una finitura naturale, mentre l'altro in fianco ha una finitura lucida. Qui vediamo la corteccia, il retro dell'orologio. Sono stati applicati dei numeri tridimensionali di colore bianco che staccano dal colore del legno. Dietro è stato fatto lo scavo per inserire il meccanismo dell'orologio ed è stato messo un gancio molto robusto, oltre ad una gomma per appoggiare contro il muro l'orologio e proteggere sia il muro che il legno. Ecco, vediamo, questa è una finitura lucida e questo invece è lasciato al naturale senza nessuna vernice. La decorazione dell'orologio è proprio quella naturale del legno. Il gancio è molto robusto perché il peso di questo tronco è di circa un chilo e mezzo. Qui ne abbiamo uno da montare, a cui è stato praticato il foro per inserire il perno dell'orologio. Abbiamo scelto di applicare un meccanismo di qualità e in questo caso è necessario utilizzare un meccanismo con un perno piuttosto lungo. La parte filettata è di 18 mm. Prima inserisco un gommino di protezione in gomma. Lo inserisco nel foro e nella parte frontale devo mettere una rondella e avvitare un dado. Senza colla vado a fissare il meccanismo al legno. Applico a questo punto le lancette prima quella delle ore si inseriscono a pressione poi la lanciata dei minuti e infine la lanciata dei secondi. Posiziono tutte e tre le lancette sulle 12 e poi andrò a regolarle in questo caso 17.33 l'orario è corretto e quindi faccio girare le lancette sulla posizione giusta. A questo punto devo solo inserire la batteria sul retro una semplice batteria da 1,5 volt ed ecco che l'orologio funziona. Vediamo anche i numeri che sono in rilievo fatti apposta tamponati con la vernice bianca danno lucentezza e anche un effetto rustico a questo orologio. Ora lo vediamo appeso al muro spero che vi siano piaciuti questi orologi se vi interessano li potete trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com continuate a seguirci sul nostro canale youtube elettronica didattica grazie a tutti alla prossima ciao ciao